Buongiorno, oggi è l'11 di dicembre e vi mostro intanto il mio outfit della giornata e poi vi faccio vedere dicevo che cosa sto preparando perché oggi devo girare un video che sarebbe il video haul di Parigi quindi ho un po' di cosine Allora, intanto parto dal mio outfit, come vedete ho indosso una semplice dolce vita, questa è vecchissima l'avevo comprata alle superiori di Danny Rose, pensate, quando andavo ancora a Danny Rose poi sotto ho la gonna questa qui di H&M che la uso spesso in inverno e sotto ho le calzine a pois di Calzedonia, queste sono quelle quei pois che normalmente sono sbrelluccicosi, non so se si nota quello che vedete alle mie spalle, adesso ve lo mostro meglio tutta questa roba qui sono i miei acquisti di Parigi quindi adesso metterò a girare il video e vi farò vedere tutti questi acquistini direttamente da Parigi, la confiture bon moment ai fichi e alla violetta adesso la provo oggi dobbiamo aprire tutte queste caselle, 7, 8, 9, 10 e 11 quindi adesso comincio con la 7 che è mia in cui non so bene cosa c'è perché mia madre l'ha, come vedete l'ha incartato tranquillamente aspettate che non ci riesco con una mano sola oddio, guardate cosa c'è avete presente cosa sono questi? sono gli zuccherini quelli praticamente è una cosa che ti ricomincio dovresti mettere nel tè e farlo sciogliere dentro perché è zucchero di canna però io me lo mangio come se fosse un chupa chups poi, senti, apro tutte le mie o facciamo alternato? apro le mie allora, numero 9 c'è un pezzettino di carta, un bigliettino che dice vedi armadio sala, quarta anta, dentro contenitore Toon oddio, andiamo a vedere questo è il bigliettino andiamo di là? via partiamo dovete mandare? aspetta eh armadio sala, quarta anta allora, questo è l'armadio sala armadio sala la quarta anta sarà quella là sotto, presumo no no dici no, ho sbagliato la qu... 2 e 3 aspetta, qual è? 1, 2, 3, 4 quindi quella sotto ah, questa qua, vabbè allora, ho sbagliato quarta anta contenitore Toon che non so quale sia ma cacchio sta ma dov'è? non c'è contenitore Toon, mamma non sta allora, forse è quello sciolto mia mamma ha sbagliato non si ricorda dove sono le cose ok qua, contenitore Toon non c'è neanche qua il contenitore Toon ma cacchio sta ah, contenitore Toon, eccolo qua qua dentro vediamo un po' tè a parte Gesù Bambino della Toon c'è un tè aspettate aspettate che qua aspetta ok, ce l'ho fatto guardate qua c'è un bellissimo tè le winter sweet fragole cannella oddio, che buono le ropre il tè apro l'11 oddio, mia mamma madre fa tutti i bigliettini allora vedi armadio sala terza anta dentro il contenitore cosa c'è scritto? ludinato cosa c'è scritto? inclinato allora, torniamo in sala sembra una caccia al tesoro sta cosa allora, sala terza anta quindi sarà quella sopra presumo allora, quindi questa qua contenitore inclinato contenitore inclinato quale sarà quel coso lì? l'unico inclinato eh no, però qua mi devo fare aiutare e non riesco ad aprirla mamma, apri tu con una mano sola è difficile eh, qua è la matriossa altro tè questo qua è atmosfera del focolare guardate che me lo sniffo oddio, questo è speziato buono bellini, c'ho il tè atmosfera del focolare winter sweet e poi c'ho questo cosino da scioglierci dentro che ovviamente mangerò come ciup a ciup allora, tocca a mamma numero 8 giusto? numero 8, sì questo mi sa di buono ahhh ma c'è ancora questo dovete sapere che è la droga della mami i pocket coffee meraviglia poi posa lì che devi aprire la casella numero? 10 10 oddio, questo che non mi ricordo che cosa c'è eh, cosa c'è wow vai a vedere parigi no, controluce guardate cosa le ho preso praticamente eh, aspettate che non riesco a mettere a fuoco dove cavolo è la fuoco? ecco qua allora, praticamente è un portachiavi con la tour Eiffel con i macarons appesi che li ho preso da Parigi stupendo bellissimo lo uso subito allora eccoci qua oggi andiamo ad aprire la casellina numero 12 tocca alla mia mamma prego mami così mi copri tutto però mi mostro il gomito questo devo spiegarti che cos'è è promettente questo qua molte di voi sapranno cos'è vedete un attimo cos'è questo aspetta che non metto a fuoco adesso metterò a fuoco pian piano questo è l'UIL si pronuncia di NUX questo qui presente Miuru sta aspettando che prepariamo la cena vero Miuru? vieni guarda un po' di qua i broccoli mi piacciono da morire allora oggi è il 13 13 quindi dobbiamo aprire allora ahhh cioccolato ce n'è ancora? no ce n'è solo uno c'è il cioccolatino questo è della Lind l'ortecchiotto della Lind adesso me lo pappo allora eccomi qua questo è l'outfit di questa sera non so se lo sapete forse l'avete visto da Instagram stasera ho la cena aziendale quindi sarò a una cena tipo di gala quasi in un castello della mia zona quindi questo è l'outfit ho messo questa collana di L&M che è molto luminosa orecchini appunto luce molto semplici questo vestitino di intimissimi vecchissimo tra l'altro ho comprato un sacco di anni fa ma sempre molto bello sotto metterò i tronchetti che avete visto un po' di tempo fa nello spacchettamento e adesso invece andiamo ad aprire il calendario dell'avvento apri il numero 14 vai vai fallo con l'altra mano che così mi fa vedere il gomito bugia bugia mamma che devo andare via bugia non c'è niente aaaaaah cosa c'è invece? non è che non c'è niente bellissimi aspetate che vi metto a fuoco con un'altra sommatura sul rosa no questi qua sono un rosa si sono un rosa più intenso mettete un pochettino più verso la luce ah eccoli qua stupendi già tutti oggi è il 16 dicembre apriamo le caselline 15 e 16 perché ieri non si è riuscita a bloccare comunque io volevo pubblicarvi la cosa finalmente sono ufficialmente in ferie quindi da domani sono a casa quindi riuscirò a bloccare un pochino di più e soprattutto riuscirò magari a fare cose un pochino più interessanti che non andare in ufficio quindi insomma qualcosina di diverso riesco a farlo allora oggi è tempo di aprire due caselline la 15 e la 16 quindi la 15 la apro io la 16 invece mia mamma quindi adesso devo andare ad aprire questa casellina io vediamo cosa c'è robo a mangiare robo a mangiare robo a mangiare basta sono dei cosini della Lynn oddio vabbè ok poi apertura della mamma vai col 16 ah io mi sono fatta male la testa ho un digestivo per tasera cosa sono pocket coffee ce n'è ancora un terzo tre che fortuna tre pocket coffee e voilà forse uno mi avanzerà per domani stasera bagniamo stasera bagniamo Buongiorno a tutti, oggi è il 17 di dicembre ed è sabato E sto per andare a Serravalle E diciamo che è il primo giorno in cui finalmente sono di nuovo in vacanza Quindi fondamentalmente vado a festeggiare a Serravalle Vedo se riesco a trovare qualcosa di carino Vi voglio far vedere il mio outfit Oggi indosso questo cappotto color cammello Ho questo maxi sciarpone di camayeur Ha il cappotto di mango, questo invece di camayeur Ed è vecchissimo perché ce l'ho da parecchio tento questa sciarpa E sotto indosso un vestitino che non so se notate qua ha delle taschine un po' particolari Con una specie di bulanin e una cintura in vita Che ho preso al mercato, pensate a una cifra irrisore tipo 8 euro E poi questo maglioncino sopra perché ovviamente se no avrei freddo Qua invece indosso questa collana di momi e gli orecchini in stile Dior Il cappello invece è di H&M Comunque cercherò di farvelo vedere tutto completo Ah e poi ho dimenticato la borsa o la Stella McCarny Vi farò vedere tutto in modo completo Quando saremo a Sarravale, se riesco cercherò di fare un video Magari in video outfit Grazie a tutti Grazie a tutti Ok adesso siamo in pausa pranzo quindi ci stiamo per parte qua e ci stiamo a fare una sera avanti Abbiamo mangiato un po' Io spero si senti, soprattutto c'è un po' di musica e c'è un po' di gente Perché non so di parlare neanche tanto forte Comunque la situazione è abbastanza degenerata perché ci sono vari panchetti Per quanto riguarda quella dell'altra Tira fuori il prezzo Comunque in realtà non sono tutti i miei perché ho dovuto fare anche un po' di regali E adesso invece, insomma, abbiamo ancora un po' di pavola Con la torta salata alle verdure e poi anche un tiramisù E dopo andremo in un'altra parte con la nuova di Stella McCarny Che praticamente hanno aperto Nella nuova si mette con un specchio di sovrappasso C'è una specchio di ponticelli che si mette dall'altra parte Non so che negozi ci siano Ma hanno aperto dei negozi nuovi perché invece c'era Pandora Che normalmente invece non c'era Però non mi è entusiasmato, infatti non ho comprato nulla Comunque adesso andremo a scoprire sempre la nuova di Stella McCarny Stiamo andando nella parte nuova di Serravale Vedete che c'è una specie di passerella E' quel fattore, il fattore E' infatti No, ma infatti hanno, cioè hanno, hanno un filato proprio E' infatti Stiamo esplorando la nuova parte di Serravalle Hanno aperto un sacco di nuovi negozi C'è questo qua che è Toys Poi vediamo che cosa c'è dall'altra parte Guardate che bello che l'hanno fatto Buongiorno a tutti Oggi è il 18 di dicembre Devo aprire ben due caselline del calendario dell'avvento Perché me ne sono perse due per strada praticamente Faccio vedere velocemente cosa indosso Oggi indosso questa maglia di Zara Che ho preso, mi sembra, a Londra se non sbaglio E poi ho un paio di shorts di Zara Morbidi con il pizzo Non so se riesco a farvele vedere Qua sotto c'è del pizzo E poi ovviamente è con collano super scoprenti Come accessorio questa è la collana Quella di Tiffany Quella che uso più spesso in generale E poi questi collani e questi orecchini di Taratata Adesso invece andiamo ad aprire insieme Di là il calendario dell'avvento Miuru partecipa sempre all'apertura del calendario dell'avvento Miuru Che dici? È vero? Guardate che faccia che c'ha Da schiaffi ce l'hai la faccia Allora andiamo Andiamo ad aprire Devo aprire 17 e 18 Dove stanno? Qua sotto Allora, qual è che devo aprire io? 17, giusto? 17 Ogni tanto mi perdo per strada Allora Altro bigliettino Adesso scopriamo dove che dobbiamo andare a cercarlo Vedi armadio, sala, terza ampia, dietro Risotteria, tapperware Risottiera, tapperware Ok, andiamo Andiamo Allora, armadio, terza, anta Quale sarà mai? Aspettate Allora Mi chiamano di capirlo insieme Uno, due, tre Sarà questa qua a sinistra? Lei? Questa qua è la terza? Questa qua? Dietro risottiera, tapperware Questa, per chi non lo sapesse Questa è la risottiera Altro tè di Natale No, questo è tè nero di Natale Lo vedete? Aspettate Pensate che vi metto la luce bella Sennò si vede un tubacchio di niente La farà Questo è tè nero di Natale Aspetta, vediamo un pochettino che gusto ha Allora Tè nero, pezzetti di mela Pezzi di cannella, coriandola Aromi, cardamone Fette d'arancia Peperosa Chiodi di garofano Figata Ups, è ben cascato il bigliettino Calma Il 18 è quello lì, vai mami? Mi hai copiata con lo scotto Eh sì, perché se non si vedeva Se abbiamo fatto dei pacchetti spettacolari Abbiamo coperto le cose che si vedevano con lo scottex Vedete voi Cos'è questa cosa strana? Cos'è questa cosa strana? Figo, figo Ma qua urgono, urgono occhiali Allora, questa è Aspetta, vediamo se riesco a farvela vedere un pochino meglio Urgono occhiali Questa è una crema mani di Codali Figo, figo, figo Il miuru che esplora fuori Perché ogni tanto arriva il gatto vicino del vicino di casa E si mette qua davanti Loro si guardano in modo cagnesco quasi E sì, io e io si amano da morire E il miuru guardate come controlla sempre cosa capita fuori Il miuru Zero per cento parveni Cosa guardi? È buono, eh C'è mia madre che sta commentando la cosa di Codali Che gli ho regalato Allora, buongiorno a tutti Finalmente sono riuscita a sistemare la fotocamera in macchina In modo tale da riuscire a fare un vlog Quindi oggi è domenica 18 dicembre Come sapete ho finito di lavorare Quindi in realtà sono a casa anche domani Per cui cercherò di farvi vedere un po' di cose Perché vi spiego la mia giornata Io oggi, stamattina sono stata a casa Quindi ho dormito un po', mi sono riposata Poi adesso invece mi sono preparata Sto andando a Torino con la mia migliore amica Facciamo un giretto Poi ne siamo viste ancora dopo che sono andata a Parigi Quindi volevo passare un po' di tempo con lei E le ho preso anche due pensierini Perché le ho preso dei tè di Cusmiti E poi le ho preso anche dei dolcetti di Parigi E niente, poi faremo un giro per Torino Devo ancora prendere due regali di Natale Quindi vedrete passare da Sephora E forse anche da Melissa Però non sono ancora sicura Dipende un po' dal tempo che avremo Nel pomeriggio E poi invece la sera passerò il tempo Invece con il mio fidanzato Quindi stasera andremo a Bra Perché fondamentalmente Così passiamo un po' di tempo insieme Andremo verso Bra dove lui ha la casa Per andare a Per andare all'università Perché vi ho detto che forse Lo avevo accennato Che lui la studia a Pollenzo E ha lavorato anche per un po' di tempo lì Quindi vado a trovarlo Poi domani mattina invece sarò a Bra Tutta la mattinata Quindi se riesco magari farò un giretto Anche per i negozi di Bra Così ve li faccio vedere